io non lo vedo troppo protetto il carburante vedi qua, eh no infatti non è protetto non c'è nessuno anzi, è stato sbattendo altamente eh no, secondo me questo qua è della serie il primo che arriva ci mangia sopra e ci mangiano sopra un po' tutti sento esplosioni da... eh anch'io penso, chiasso penso verso la vite, l'icona della vite, non mi ricordo cosa sia eh lo scrap, qua c'è una carabina, una pistola, un arm no, non è lo più interessante che troviamo esplosivi in realtà eh qui non si può costruire un qualcosa per... eh non abbiamo nulla, non abbiamo i materiali e portare il camion qua vuol dire farselo shottare così di sicuro è rischioso, ecco qua lo scrap c'è un edificio oh, dov'è? da sinistra, da west c'è un signore andiamo anche qua, di fronte a me, ma oggi ma io qua, si, si, si merda occhio, qui qua c'è una squadra alleata è una fox, è una fox, l'occhio aiutate Ricky se potete, chi ha il medico? io no io, almeno io cazzo in teoria possiamo distruggere sparando all'impazzata, però ci metteremo un po' ehm, sì, ma bisogna vedere quanto conviene eh infatti ah no, aspetta, Brescia tu hai il lanciagranate, teoricamente dovresti riuscire a fargli qualcosa sì, non ho mai lì magari non ho tante granate, però... ehm, occhio perché ti vorrebbe flutare io ho già utilizzato uno quindi dovrebbe... tre, quattro granate le facciamo fuori da fox sottotitutto che carico vieni ancora lì sì ma io da quel buon angolo di visuale anch'io non ho... non ho granate, però vediamo di risciare a palla a fuori adesso no, ancora lì no non ho più granate, è tanto ok, scusa, scusa, scusa bella, bella andata andiamoci, andiamoci andiamoci non ce ne erano poche là ah, c'era anche Mars qua c'è un tunnel, però è ancora operativo sì, ma finchè non ci sono protezioni in giro noi ok, è venuto occhio! sinistra colpi, colpi, colpi foxhole un'altra? io sono dentro la casa eh, credo di sì eh, però quella lì è il bunkerino, cioè la foxhole è il guadino ah, sono in cemento? non è la cosa no, no, è quella quella inferno ah, quella che si ha ah, ok guarda quei sacchi di sabbia attorno praticamente sì mi sono, testo, testo abbiamo altri alleati c'è un tizio ferito dov'è? eh... eccolo qua c'è un fantasia nemica anche dove? in nord-west ci siamo all'inclusione oh, mi chiamo ok, si, 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 si qua dietro la casa, quello là? ecco l'ho la, quello vero qua si è ammazzato eh, non fai via no, non fai via nito oggi qua, non tanto c'è la malattia pesante ma non mi inserisco troppo or ferito è ferito avete bene nicola ai 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 fattiglia c'è di tutto io ho visto il potenziato grazie aia no 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 c'è una casa se cazzo non sappiate se mirate usando l'angolo del vostro monitor riuscite a vedere un po più lontano l'angolo del vostro monitor se mirate usando un angolo guardate più lontano si 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 tiri verso il bordo praticamente si esatto sulla sinistra c'è un muretto praticamente a nord ovest c'è un muretto con una casa non mi avvicinate perché nella casa mi ha mirato ma non tirato contro non so se sono npc o se sono giocatori io ho due granate esplosive ma non ho un'unizione più difficile qua sotto qua sotto qua sotto qua sotto c'è di sud ovest si sono alleati sto sparando verso laggiù a cancello guardate se avete la mitraglia pesante posso guardare qua c'è un bunker lì cazzo cavoia non l'hai troppo certificata occhio lì occhio inizia vieni via vieni via sta arrivando chi è il mare di questa squadra adesso non lo so io ho i caricatori per la mitragliera pesante volendo se l'avete recuperata puoi bastardo io ho l'SMC piccolina no no fermati vieni qua occhio sotto ho visto qualcuno e ho visto movimento è alleato è alleato sono in arrivo questi via 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 si si era vicino tempo di sentire il sibilo eh ce l'avevi già la mitragliera mamma che scarico ok la mitragliera c'era uh questa qua è interessante non possiamo ripararla adesso lo ripariamo occhio in arrivo no no ci mirano ci mirano stanno correggendo tiro qua occhio focso di fronte io ce l'ho risposto si ma sono le grade le HE bisogna abitinarsi per questo eh io teoricamente posso provare a dare un po' di supporto con l'SMC ma ci vorrebbe una grata ci vorrebbe una una smoke antiuomo la frag una smoke occhio aia merda t'han preso? eh no qua correggono ci conviene ok muore 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 continuate muore verso est est verso est ok qua c'è la strada ok eh ma qua salire un po' un bordello no no andiamo di qua andiamo di qua ah no no c'è il passaggio ok di qua si salta di qua si salta ah oh sotto la neve sono oddio eh prima non riuscivo a passare no anche perchè se ci prendeva l'insenatura era proprio non mi tenevo oh che cazzo ma no pazzesco vabbè scendiamo anche noi via allora possiamo andare intorno magari troviamo qualche buco nel perimetro difensivo secondo me ci conviene tornare indietro perchè o riusciamo a localizzare quegli obici e a zittirli eh gli obici in senso sono dentro la città esatto però secondo me sono tipo dove c'è il campo medico una roba del genere eh infatti ciò volevo vedere in giro qui perchè perchè io non vorrei che fosse l'artiglieria pesante sai quella si è quella quella che costruisci proprio che piazza la piazza eh 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 la fissa quella sono malissimo no quelli non li ho ancora usati ma sono gli obici ok e dove? eh sul sud ovest intanto è vicino alla montagna sono qua sulla roccia eh anch'io sentate anche dei piccoli occhio nemici vicino al murretto vicino a murretto è saltato dall'altra parte l'ho ferito però occhio fosso occhio aia maledizione boia ahhh forza un calcio aiutatemi merda beh minchia io sono cascato di sotto eh ora andiamo anche noi di sotto perché qua purtroppo hanno le cose eh ma mi sa che hanno un'altra con carro perché ho sentito un sottotitolo occhio e fu così che ci sgamarono per il craftson esatto o non facciamo scuola scuola ammetto la mia sensazione roba stupacca o si potrebbe anche conquistare volendo in teoria sto tu dai fatti secondo me si può pensare perché così quando qualcosa qui ma abbiamo abbiamo il tuo nel cartone nostri qua destra spero lo spero anch'io dell'act si c'è la nostra base eh fermalo qua va il camion anche un pelino più indietro perché metti la dietro qua le piante vicino alla montagna perché se vengono qua a prendersi il più e le vedono il camion mi sa che si devastano e prendono un sacco di roba esatto e non è bello vorrei che puoi metterla anche dietro al cancellone o qui o dietro no no vai dietro qui e continua in retro che così non nascondiamo un po' dentro al quale in centro della montagna mettiamo qua dietro no? è un po' meno visibile bravo si ok così è pronto anche a partire guarda che spegniamo sto cazzo poi spegni sto cazzo di motore scendi comincia a costruire qualcosa vediamo un attimo come la situazione a livello del fronte Ricky? ok pensavo avessi visto sonno il camion vediamo un po' come è la situazione vediamo dove c'è bisogno di fortificare se io riesco a salire qua forse riesco a darvi un po' di copertura cazzo dove cazzo era? ahia oh ci vedono ci vedono merda via 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 mi ha preso in pieno eh ho visto hanno preso anche il camion? eh un po' si un po' si prendete le robe al camion prendete le robe al camion nord est allora uno forse mi ha appena attraversato davanti nella zona buia ho visto gambe si sono nella zona buia loro eh mi sa che ci stanno prendendo da questa parte vediamo eh cosa facciamo torniamo indietro? io sto venendo col camion eh ci conviene io sto arrivando eh provo io a fare un po' di copertura riposo un attimo il mio personaggio non mi si viene si si sono qua da le quali vedo al puntino tra nord e est ok ok fortifichiamo qui vediamo se può costruire spero si possa costruire ce n'è uno lì è proprio dritto a te roggia dal puntino? si si era lì era lì era lì era lì siamo qua sotto allora vai a destra a destra ce n'è uno l'a destra? ho visto movimento sulla destra non so se nostro no ma leggermente a destra col buio è uno schifo è col buio ti faccio un perché non mi vuole costruire tizio? ok ok aspetta che provo è molto vicino oggi vieni dove sono io che riesce a fallire sopra visto devo ricaricare scopritemi un attimo vai oggi mi resta un muretto qua se vuoi si anche qua sopra se vuoi che palle sta roba hai di stare in piedi per costruire e ce n'è uno nella casa si si è vero da lui la faccio un attimo c'è anche da allearmi c'è gente c'è gente un alleato dentro lì occhio che non si è spaventato mai spara che spara col mitra si c'è un tizio sono anche i nostri qua sono quasi ma no tipo di stati sono qua giù sono io probabilmente sono fortunati che è buio ho visto del movimento al nostro accampamento nocchio fabio speso arriva uno nella casa c'è uno lì lo vedo eh dentro nella casa si lo cazzo si usa la lancia granate stai mettete il muso fuori se proviamo ad aggirarlo ci sono persone là eh là dietro c'era qualcuno prima lancia granate raio lo monti con F poi ti metti la granata pigi il tasto destro per mirare ti fa la parabola grande preso preso l'hai preso al primo si è la terra che si sta soffrendo l'hai preso al primo e sulla destra vedo un movimento vicino al nostro appostamento quello che abbiamo fatto non so se sono nostri o cosa io resto qua giù almeno c'è qualcuno dei nostri qua si c'è dei nostri cazzo ce l'ho davanti a me praticamente là dove c'è il tunnel davanti al filo spinato dell'accampamento dalla torre nostra di guaria via sarebbe da prendere quella casa infatti eh ma io non vedo nulla lì il problema è che è da restaurarla stanno sparando a occhio forse ce l'avete o davanti o dietro lancio la granata vedo muovere vedo muovere a nord-est non ci sono amici o nemici qualcuno ricarica ah mi ha ferito merda eh no ha cominciato a cilindrare qua la roccia e non vorrei che tra un po' arrivi al mortai la casa è nostra adesso ma è da restaurare credo per poterci sparare si però ci sono delle prestazioni difensive per scendere ma io ho di niente qua vedo un mortaio qua da noi vedo qualcuno sanguinaio vicino alla roccia è qua dietro c'è occhio eh occhio occhio qua dove c'è la casa mira dietro qua no li stanno sparando non so c'è anche un altro amico vicino alla roccia la roccia grande non mi ha preso per ok amico quello quello amico quello amico ragazzi la casa è la casa è che ti spara la casa non lo so non lo so io li stanno la roccia di fronte la mia di fronte la mia di fronte la mia si is fire friend is fire god damn you miss i i i i come i i i Grazie a tutti.